Una partita che si era messa anche sui binari giusti, dunque Empoli è riuscita a stare per tre quarti abbondanti a contatto con la Fiorentina, poi anche purtroppo l'infortunio di Giancarli magari ci dice se sa qualcosa e anche i problemi di falli, ecco vi hanno ridotto le rotazioni drasticamente. Sì, sicuramente quarto quarto avevamo finito tante energie che avevamo messo nei primi tre quarti, questo poi l'abbiamo pagato pesantemente, però insomma abbiamo giocato tre quarti di discreto livello, noi possiamo fare molto di più in difesa, non possiamo concedere tante situazioni facili in campo aperto, tanti canestri facili al ferro a difesa schierata, questi non sono nel nostro dernier anno, ci devono essere. Siamo rimasti aggrappati finché abbiamo avuto energia, poi appena siamo calati, appena appena c'è stato un divario netto. Ecco, c'è già il turno infrasettimanale, quindi c'è da recuperare anche a livello fisico, di Giancarli sa già qualcosa? A Giancarli proprio perché c'era la partita di mercoledì ho preferito non rischiarlo, anche se non era poi una cosa gravissima, ma insomma ho preferito fare così, visto il turno infrasettimanale, adesso c'è da recuperare energie, come hai detto giustamente, cercare di fare un altro tipo di partita mercoledì.